Buonasera, franciulle, eccoci qua. Allora, questa sera vorrei spendere due paroline a riguardo, diciamo, dell'evento a cui ho partecipato questo pomeriggio. Voglio fare un video così un po' a caldo e raccontarvi un pochino cosa è successo. Intanto sono sfatta, sono veramente sfatta, è stata una giornata intensissima, ho fatto qualsiasi cosa e sono anche riuscita a tornare a casa ad un orario decente, riuscendo a fare anche la spesa. Perciò, cioè, sono contenta perché comunque mi sento in forma, ecco, e sono riuscita a fare un sacco di cose come non riuscivo a fare da tanto tempo. Allora, vi spiego un pochino. Questo pomeriggio ho partecipato a un evento Clinique. Questo evento fa parte dello Smile Tour che Clinique fa ogni da due anni a questa parte durante il mese di settembre in tutta Italia. Intanto vorrei ringraziare la Sister per avermi diciamo, diciamo, linkato la sezione della pagina Facebook di Clinique nella quale si aveva la possibilità di iscriversi e ricevere l'invito a questo evento. E la ringrazio anche perché lei alla fine non è riuscita a venire, perché non stava benissimo. E allora, niente, colgo lo stagione per mandarle un grosso bacio. Praticamente, io ho fatto, diciamo, l'iscrizione, ho richiesto di partecipare a questo evento tramite la loro pagina Facebook, che se mai ve la link qua sotto, è nell'arco di qualche giorno, 3-4 giorni, mi è arrivata una mail con un invito da consegnare e poi, durante l'evento, come, diciamo, un biglietto che Capone so da visita. Ok. Praticamente l'evento si è svolto presso l'NR Cautel che c'è al Porta Antico di Genova. Durava dalle tre e mezza alle cinque, ma alla fine è iniziato tipo verso le quattro e è finito un po' più tardi, verso le cinque e mezza, sei meno un quarto. Lì, io sono, alla fine, perciò io sono andata sola soletta, infatti l'ho quasi indecisa se andare o meno. Alla fine però sono stata molto contenta, perché ho ritrovato tre ragazze che conoscevo già, ovvero Eliana, che ha il blog del Brunette Mix, e che vi metto il link qua sotto, Marina, che ha il blog Marina, lei si fa chiamare Marina D, e anche di lei vi metto il link qua sotto, e poi Maya, che avevo già conosciuto qualche annetto fa ormai, che è una ragazza di Genova che in occasione di questi eventi mi fa sempre piacere rincontrare. Invece Eliana e Marina sono due nuove conoscenze molto piacevoli. Io ero già stata l'autunno scorso ad un altro evento clinic, dove c'era Vilma che ci aveva spiegato tutta la storia del brand, spiegato tutti i loro prodotti, i loro punti di forza, eccetera, eccetera. Praticamente in questo evento la prima parte si è svolta nella stessa maniera, nel senso che ci hanno proiettato delle slide riassumendo la storia del brand, elencando i loro punti di forza, e poi si è andato più nello specifico a parlare dei vari tipi di prodotto, le creme, il sistema di tre fasi, che è il loro punto di forza, il fondotinta, le creme per il contorno a occhi, e poi andando a parlare del make up e facendo qualche anticipazione sui loro nuovi prodotti, come le cc cream, alcune nuove colorazioni di prodotti make up e le loro palette per il trucco degli occhi. Poi per finire hanno chiesto a noi partecipanti tre persone a cui poter fare un make up personalizzato utilizzando i loro prodotti. Perciò tre gentiltonzelle si sono fatte truccare a partire dalla base, partendo dalla base, e andando a sviluppare un trucco da giorno per poi adattarlo in un trucco da sera in poche semplici mosse. E vabbè, ovviamente poi durante, diciamo, la realizzazione dei tre differenti make up, loro di Clinique ci ispiravano passo passo a passo tutte le varie tecniche, tutte le texture dei vari prodotti, come applicarli, eccetera, eccetera, fornendo tutti i loro consigli. E niente, diciamo che alla fine dei conti è stato interessante come evento, diciamo che io sono rimasta più colpita dal precedente, perché comunque era il primo, non so come dire, questo è stato, diciamo, un po' una ripetizione del primo evento, nella quale poi ci sono state fornite altre informazioni però riguardanti i loro ultimi e nuovi prodotti che dovranno ancora uscire. E niente in più, poi c'è stata la parte di dimostrazione del make up che è stata abbastanza interessante, anche perché si è potuto vedere dal vivo anche la resa dei vari prodotti, dei singoli prodotti, in base a tre diversi, sulla base di tre diversi tipi di pelle. E niente, ho fatto alcune foto, anche se le prime sono venute veramente a nascifezza, sono un po' mosse, vabbè, però cercherò di caricarvi qualcosa sulla mia pagina Facebook e magari vi linkerò l'album fotografico qua sotto. Alle 5 e mezza, 6 e meno un quarto, poi, si è concluso l'evento e alla fine dell'evento ci hanno regalato questo sacchetto qua, color romanchio. All'interno del sacchetto, c'era un sistema di tre fasi, questo qua è per il tipo di pelle 2, da secca a mista, come c'è scritto qua. E vabbè, il sistema di tre fasi, che è composto da questi tre prodotti, no? Questo è il set per pelli d'aride a miste. E gli step ovviamente sono questi, spero che dovreste conoscerli già tutti, ovvero il primo che è la detersione, il secondo che è l'esfoliazione e il terzo che è l'idratazione. Allora, questo set in lo specifico contiene, come scritto qua, contiene la fase 1 che è il Liquid Facial Swap Mild, che è il sapone liquido per il viso delicato, la fase 2 che è la Clarifying Lotion 2 che è la Lotion Esfoliante e la fase 3 che è la Dramatically Different Mesturizing Lotion Plus. Quest'anno specifico la crema è una novità perché è stata riformulata, come ci vedete? Allora, aggiungendo glicerina, urea, il terzo me lo sto fumando, olio di sesamo, sì, dovrebbe essere olio di sesamo. E niente, perciò già questa qua sarà una novità di Clinique. Nel sacchetto poi c'era anche uno dei Chubby Stick per occhi, nella colorazione 10 Big Blue, che è uno di questi Stick per occhi, di quelli che esce fuori dal packaging, alla stessa maniera dei Chubby Stick per labbra. E niente, questo è un colore azzurrino e sono quasi curiosa di provare il sistema tre fasi. Ma, non so, mi prenderete per pazza, dato che io sono biodipendente, però sono quasi curiosa di fare questa prova. Non lo so, ci medito ancora un po' sopra e poi vedo se testare le tre fasi seriamente o meno. E niente, per questa sera direi che balza avanza. Adesso mi cambio e vado a cucinare. Ciao a tutti, buona serata.